Siamo a Susa, 11 dicembre, termine della manifestazione a Notav, sotto i portici di Susa parliamo con Paolo Prieri che si è occupato dei contatti internazionali di questo movimento. Come si è arrivati a 11 dicembre a una manifestazione coordinata in quattro città? Sì, questa manifestazione che oltre ad essere Notav è una manifestazione europea contro le grandi opere inutili che si svolge qui a Susa ma contemporaneamente a Bayonne e a Stoccarda, mi fa piacere dirlo, è il risultato di un coordinamento che è nato circa un anno fa, dicembre 2009, quando in un modo quasi casuale siamo riusciti a metterci in contatto con le lotte del sud ovest della Francia e il sud ovest della Francia con noi. Questo naturalmente è dovuto un po' alla rete, la grazia all'internet che anche in questo caso ha dimostrato la sua potenza di creare relazioni a tutti i livelli. A quel momento abbiamo cominciato a scambiarci messaggi e a costruire insieme quella che sarebbe poi diventata la carta di Andai che in quel momento si chiamava dichiarazione comune che abbiamo firmato, sottoscritto il 23 gennaio ad Andai che è una città nel sud ovest della Francia, nei paesi baschi francesi. Una grande manifestazione, 20 mila persone e a Susa nello stesso giorno un'altra grande manifestazione, 40 mila persone, percorreva le vie di quella città. In Francia la manifestazione è partita dalla stazione di Andai per recarsi in Francia, in Spagna, scusate in Spagna che è proprio dall'altra parte di un fiume ed è ritornata ad Andai. Bene, quel giorno è nata la carta di Andai. Questo è un collettivo che possiamo chiamare anche in maniera più familiare Notav Senza Frontiere che ha dimostrato tutta la sua potenzialità con atti che si sono svolti successivamente per arrivare fino ad oggi a Susa, dove vi parlo, ma naturalmente anche a Stoccarda, 11 dicembre 2010, così come a Bayonne e a Langone nel paese dell'Use. Ma avete dovuto concordare la data? La data è stata proposta dai francesi ed è stata subito accettata da noi perché corrispondeva ad un periodo nel quale sicuramente avremmo dovuto impegnarci di nuovo come abbiamo fatto perché la ripresa, come possiamo dire, delle lotte Notav è cominciata subito dopo le vacanze estive a settembre con manifestazioni... Allora, come è stata agganciata? Allora, Stoccarda è una lotta che nasce molti anni fa e che ha avuto il suo apice a partire da maggio del 2010 fino ad arrivare ad oggi. Stoccarda aveva deciso di fare una manifestazione l'11 dicembre in modo autonomo, lo dobbiamo dire, ma subito abbiamo preso contatti con loro perché la data era la stessa, le questioni erano le stesse e finalmente siamo arrivati a concordare degli slogan insieme e a scambiarsi dei messaggi di solidarietà. Poi possiamo concludere con Terzigno che è una questione un po' diversa quella delle discariche ma comunque avete un gemellaggio mi pare. Sì, Terzigno naturalmente è anche quella una grande opera, la possiamo definire così, che mette subito in evidenza la forza distruttiva dell'agire umano quando gli errori si compiono a danno dei cittadini. Terzigno è significativo perché è molto conosciuto ma noi vogliamo dire che le grandi opere inutili creano un legame su molti temi, uno dei quali è la linea ferroviaria ad alta velocità, ma noi non dobbiamo dimenticare il ponte di Messina che vale un quarto della Lione-Torino o le centrali nucleari o altri momenti di lotta che noi sappiamo esistere, il sottotraversamento della città di Firenze per fare un esempio, oppure delle cose che riguardano le ferrovie come la distruzione e la morte che si è creata con l'incidente di Viareggio. Il nostro impegno nell'essere unificatori delle lotte è nato molti anni fa, oggi prosegue sempre di più e ne siamo molto orgogliosi di trovare una solidarietà e a nostra volta di scambiarla con gli altri lotti in giro per l'Europa, ma noi pensiamo che l'Europa è solo un passaggio, noi abbiamo ambizioni anche più forti, sappiamo che molti sono i paesi nel mondo, vorrei citare se me lo permettete la Cina che è un paese che ha un rapido sviluppo.